Da Piazza Salotto passa l'appuntamento con la storia della città di Pescara che è pronta a tornare nell'Olimpo delle squadre di Serie A. Questa sera in questa piazza si seguirà dal maxischermo che stanno allestendo alle mie spalle la finale di ritorno di Trapani. Tra Trapani e Pescara saranno quattro i punti da cui seguire la partita qui in Piazza Salotto, poi nei pressi dello stadio all'Arca e al Porto Turistico. Maglietta del Pescara è già pronto per la partita? Siamo pronti per vincere. Dove vedrà la partita? Qui in piazza? Sì, qui a maxischermo. Pronto per festeggiare? Cavolo, sono venuto qua apposta da Milano. Verrà a vedere qui la partita? No, la vedo a casa con gli amici, grazie. Quanti sarete a vederla? Forse una quindicina. Che si aspetta la finale? Non parlo per scaramanzia, non mi pronuncio. Abito a Roma tanti anni, da 47 anni. Ho avuto modo di vedere le ultime tre partite. Sono abbonato a Sky, quindi il Pescara nel cuore, come tantissimi tifosi e amici che conosco io. Stasera verrà in piazza a vedere la partita? Sicuramente, speriamo in un risultato positivo perché dopo la sfortuna dell'altro anno speriamo di non ripetere la stessa cosa. La Padula che dici? La Padula è un giocatore molto generoso, fortissimo e vale i soldi che ci riusciranno sicuramente, moltissimi che riusciranno a prendere. Siamo in via Cesare Battisti e come vedete alle mie spalle la città è già pronta a ringraziare la squadra al di là del risultato della partita di Trapani che ovviamente tutti si augurano possa regalare la Serie A alla città di Pescara. Città che è pronta a festeggiare la squadra, il Delfino, sabato quando ci sarà la notte bianco-azzurra. Cosa sta comprando il ragazzo? È una maglietta ricordo. Emozionato questa sera? Emozionato sì, un po' in ansia sì. Che pensa di questa squadra? Pescara è forte, però sarà una partita difficile, ci sarà da soffrire. Speriamo che gli episodi ci saranno favorevoli perché sarà una battaglia. Grande protagonista la Padula? Io mi sento caprari, non lo so. C'è grande fermento, tanti preparativi, le bandiere che vestiranno a festa qui la piazza Salotto e poi ovviamente tutti quanti aspettano di festeggiare il rientro della squadra all'aeroporto che avverrà soltanto in tarda notte.